Buonasera, che piacere ritrovarvi. Ci sono dei momenti, degli appuntamenti che nella vita lasciano un segno. Cos'è la storia? La storia è quella materia che ci aiuta a, conoscendo il passato, a comprendere meglio il presente. Quante volte abbiamo sentito parlare di corsi e ricorsi storici, la storia si ripete. Beh, forse è vero, ma anche in parte questo può essere un assunto. Sì, perché cambiano gli scenari, cambiano le tecnologie, cambiano gli uomini, ma la storia rimane. E la storia più lontana è quella delle nostre origini, la storia più recente è la nostra cronaca. E qui, ad Acqui, si racconta sempre una parte, ogni anno, di questa storia. Questa, l'avete letto, è la cinquantaduesima volta. Una storia fatta di sliding doors, di porte che si chiudono e si aprono e cambiano gli avvenimenti, cambiano le sequenze del racconto di ognuno di noi. Cos'è la grande storia? La grande storia è una somma, è una somma di tante storie di uomini, di donne, di bambini, di grandi e piccoli eventi che sommandosi creano qualcosa di importante. L'anno scorso ho accennato per qualche istante alla necessità di creare dei vortici positivi. Sì, perché di fronte a quelli negativi che ci colpiscono senza neanche avvertire, se ognuno di noi cominciasse, e molti lo fanno già, a creare un piccolo vortice positivo intorno a sé e questa somma di tanti piccoli vortici positivi potesse creare un grande vortice positivo, ecco lì che la storia cambierebbe. Questa mattina, di fronte a dei colleghi, di fronte ai finalisti, di fronte ai giurati, ho parlato della vetrina che viene esposta ogni giorno del nostro mondo, fatta attraverso i telegiornali, attraverso i giornali, attraverso i siti web. Bene, è una vetrina che racconta per il 90% cattive notizie. Se qualcuno da un altro pianeta guardasse solamente la nostra informazione, direbbe un pianeta dove non si può vivere, perché succedono solo cose brutte. Eppure ognuno di noi vive una vita vera, normale, non fatta solo di episodi brutti, anzi, se anche la nostra memoria di solito purtroppo ricorda più quelli negativi che quelli positivi, dobbiamo dire che la nostra vita di solito racconta cose positive, racconta il fatto di famiglie che crescono, di lavori che si fanno, di società che migliorano. Come diceva un vecchio saggio, diceva ma come si viveva nel medioevo? Beh, male, non è sopravvissuto nessuno. Quindi dobbiamo dire che oggi noi viviamo il momento migliore, cioè molti sono vivi di quelli che vivono oggi, mentre nel medioevo non è andata così, ma fuori di battuta e di metafora, voglio dire che è proprio importante raccontare questa storia. La storia è lo schienale attraverso sul quale ci possiamo appoggiare per proiettarci verso il futuro. L'Italia è piena di storia. Ricordo ancora una volta sono stato in Australia e mi dissero, le dobbiamo far vedere la costruzione più antica dell'Australia. E andavo lì a vedere e non mi capacitavo perché dico ma dov'è? E questa era un palazzo che aveva due secoli. Dico noi che abbiamo quartieri pieni nelle nostre città di palazzi così, specialmente i centri storici, e la nostra storia comincia da molto prima e non ce ne rendiamo neanche conto forse. In Italia è già successo due di tutto, ma forse anche di più. E siamo un piccolo appezzamento di terra che però per molti anni è stata la media ponderata dei comportamenti di tutto il pianeta. Eravamo un po' il lago della bilancia, cioè quello che succedeva in Italia mediamente era la via di mezzo tra quello che succedeva su dove succedevano cose molto brutte o molto belle e noi eravamo in una posizione di equilibrio. Chissà se oggi è ancora così. Fatto sta che con i giovani per esempio, ho avuto occasione ieri di incontrarli, ho visto che tanti, tanti sono desiderosi di apprendere, di migliorare, di crescere. Certo chi ha la mia età o chi ha qualche anno di più deve fare un piccolo bagno di umiltà e raccontare questa storia con i colori, con le velocità, con i ritmi, con il linguaggio al quale loro, le nuove generazioni sono abituate, altrimenti si crea una frattura e questo non è giusto. Non è giusto perché la storia deve andare avanti. Io voglio raccontare una piccola storia banale e stupida perché ognuno di noi può fare qualcosa e vi racconto come può cambiare la vita di un essere vivente piccolo e indifeso con un piccolo gesto. Voi direte ma che sta facendo con questo cerchietto di plastica? Vedete mi trovavo al mare quest'estate e con una normalissima piccola canna da pesca ho pescato un pesciolino, neanche troppo piccolo. Mi rendo conto che c'era qualcosa che non andava. Vedo come un segno rosso dietro la testa, dico forse è ferito, no, era un cerchietto di plastica come questo nel quale questo pesciolino si era infilato per errore quando era più piccolo e dato che i pesci non fanno marcia indietro, lui c'era cresciuto intorno e gli aveva segato completamente la parte tra la testa e il corpo e c'era cresciuto dentro, ormai lo stava per soffocare, probabilmente quella pesca improvvisata e neanche troppo esperta che era la mia gli aveva provocato una fine più rapida di quella che dolorosamente gli avrebbe provocato questo cerchietto di plastica. Ho parlato di sliding doors, no? E provate a pensare, adesso quando andrete a tavola e troverete questi cerchietti sulle bottiglie, che noi proviamo a fare delle raccolte dove questi oggetti di plastica vanno in un certo luogo, vengono distrutti e non vanno in mare, però per tutta la buona volontà che possiamo metterci noi nel gettarli nella maniera più corretta e tutti a fare nel loro meglio, può darsi che qualcuno di questi cerchietti cada in acqua. Allora noi possiamo creare noi una piccola sliding doors per fare in modo che è successo delle tartarughe marine, è successo degli altri esseri viventi, che questo cerchietto non diventi un cappio mortale e lento nei confronti di un altro essere vivente. Cosa possiamo fare? Una cosa semplice che possiamo fare a tavolo ogni volta che lo incontriamo. romperlo e questo non soffocherà più nessuno, anche se andrà nel posto sbagliato. Questo è un pezzettino di storia che possiamo cambiare.